Un libro di fiabbe per dire no alla guerra e dare speranza ai bambini ucraini, vittime innocenti di un conflitto nato per l'arroganza dei leader politici. Questo è il concetto alla base dell'ultima fatica letteraria della scrittrice Mariella Buono, e cioè il libro Fiabbe per Sumi, dedicato, come si evince dal titolo, alla città ucraina pesantemente bombardata nel corso dell'invasione russa. Il libro, presentato nella sede della banca sicana di Caltanissetta, è corredato dai disegni di alcuni alunni delle scuole elementari di San Cataldo. I proventi saranno destinati in beneficenza alle vittime dei bombardamenti in Ucraina. Questo libro, Fiabbe per Sumi, ha un duplice obiettivo, oltre a quello di aiutare i bambini ucraini, ma è quello di proclamare e volere la pace. In nome di tutti i bambini che sono stati uccisi per colpa della guerra, il nome di quei fratelli, padri, madri e figli che hanno perso la vita per la guerra.